Continua la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani nel territorio della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano. Nell'ultima settimana i comandanti delle stazioni di San Demetrio Corona, Roggiano Gravine e San Sosti hanno incontrato la cittadinanza nelle piazze e nei luoghi di ritrovo dei rispettivi centri abitati. In particolare gli incontri si sono svolti anche presso dei luoghi iconici dei predetti centri della Valle dell'Esero, quale il Santuario, Basilica Minore della Madonna del Petturuto, la Chiesa di Sant'Antonio e la Chiesa di Santa Maria Santissima di Costantinopoli nel paese Arbresce. L'attività di sensibilizzazione, portata avanti con il supporto di tutti i militari delle diverse stazioni, è stata rivolta ai cittadini di tutte le età. Infatti è fondamentale che anche le persone più giovani siano al corrente delle tecniche utilizzate dai truffatori, così da fornire un concreto supporto ai familiari più anziani e maggiormente vulnerabili. Inoltre la distribuzione dei volantini indicati le linee guida da osservare rappresenta un utile ausilio da poter utilizzare nel quotidiano. Quest'ulteriore campagna informativa si rende necessaria in considerazione dell'approssimarsi della festività natalizie, periodo nel quale tali fenomeni criminali potrebbero incrementare. Infatti i militari dell'arma hanno voluto ribadire la necessaria attenzione verso il fenomeno delle truffe, illustrando le modalità con cui i sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine raggirono le loro vittime. In particolare, facendo leva sulla sensibilità dell'anziano, i malfattori si fanno consegnare monili in oro e denari, quali presunte cauzioni, per falsi eventi in cui sarebbero accorsi dei familiari. Sebbene i pretesti con cui i malviventi cercano di entrare in contatto diretto con la vittima possono essere numerosi, l'obiettivo finale è sempre quello di accedere all'interno dell'abitazione, per derubare l'ignora vittima dei contanti e degli oggetti di maggior valore prontamente reperibili. L'aspetto fondamentale, che è stato nuovamente sottolineato, è la necessità di contattare sempre il 112 o di presentarsi in caserma in caso di richieste di denaro da parte di sconosciuti. Ancora una volta, la vicinanza e l'attenzione che i presidi territoriali dell'arma riservano alla comunità più piccole e distanti dai centri urbani sono un importante segno di prossimità e di servizio verso la cittadinanza.